Ciao Gozzilini e benvenuti al giorno 6 del calendario dell'Avvento Allora, oggi appunto è il 6 dicembre e vediamo un po' cosa ci riserva la numero 6 Allora Lo sto tipo distruggendo questo calendario ma fa niente Vediamo un po', chiudiamo tutte le caselline vecchie Ah dai, molto bella, mi piace Questa è tutta rossa glitterata con due righine bianche su glitterate sempre Questa sì, mi piace, questa mi piace Sì, molto bella Ha il dettaglio sempre in oro, il nastrino in oro Sì, questa rientra forse fra una delle mie preferite sarà Ma il rosso poi mi fa tanto Natale, ma io adoro il rosso Cioè, secondo me il rosso è Natale Quindi, appunto, mi piace, mi piace molto Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa sesta pallina E ci vediamo al prossimo video Ciao Gozzilini, un bacione Ciao Gozzilini, un bacione